Valliona, tragedia sul lavoro. Sono da poco passate le tre e mezza del pomeriggio quando in via Campolongo un operaio che sta effettuando un intervento su un traliccio dell'alta tensione precipita nel vuoto. Immediatamente i colleghi lanciano l'allarme. Sul posto accorrono i medici del SUEM con l'elicottero e le ambulanze. Provano a salvarlo ma purtroppo per l'operaio non c'è più nulla da fare. È già morto. Ora toccherà i carabinieri e allo Spisal far luce sulle cause dell'incidente.